eccoci di nuovo insieme con dalla parte degli animali e con la mia piccola penelope che insieme alla sua sorellina zora ora potrà arrivare direttamente a casa vostra perché racconteremo la sua storia ma lo vedete sembra un cagnolino di peluche tanto è bella e quindi diamo il benvenuto a terry la volontaria della lega italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente che li ha salvati che ci racconterà la loro storia ciao michela allora loro sono due bellissime cucciole sono penelope zora arrivano dalla sicilia arrivano da un brutto canile della sicilia dove erano in forte stato di nutrizione non erano molto tenuto bene e la nostra associazione leida della sezione di catania sono riuscita a intervenire a portarle fuori a dargli le giuste cure le ha curate e dopo averle curate vaccinate hanno deciso di mandarle giù da noi al nord al nostro canile al nostro canile di gorla minore io direi che sono una meraviglia adesso si sono riprese completamente grazie alle cure della nostra sezione leida di catania e alla bravissima alessandra pitanza che ringrazio insieme a tutti i volontari del sud in particolare della sicilia della calabria che fanno davvero un grande lavoro ma tutti i nostri volontari sono degli eroi così come quelli di tutte le associazioni ambientaliste e animaliste italiane ma io sono di parte quindi non posso che dare ora il numero di telefono per adottare 347 0593 922 oppure come al solito scrivete a portami a casa chiocciola dalla parte degli animali punto